salva a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo video andiamo a vedere una ricetta proprio di quelle potenti di quelle che insegnano la cultura di un paese di una regione di una città che appunto la cultura di napoli soprano della ricetta della pizza fritta che una ricetta che davvero a me sta molto al cuore perché è una città dove vivo vicino è una città che ho visitato spesso spessissimo ed è sempre stata una cosa inspiegabile un c'è una diciamo un'atmosfera particolare a napoli è quella città dove tu vai e dici mamma mia c'è sembra di essere fuori dal mondo però è una cosa bellissima perché dovella e quindi in pratica stacchi la spina una cultura gastronomica indescrivibile una città da visitare e per questo motivo voglio andare a realizzare la ricetta del simbolo di questa città che appunto la ricetta del della pizza fritta la pizza fritta che è un simbolo insieme alla pizza tradizionale napoletana quindi fatta al forno a legno a ruota di carro sono un po il simbolo di questa fantastica città di questa fantastica gente e cultura adesso quindi andrò a mostrarti gli ingredienti che si utilizzano per l'impasto poi andremo a vedere mano mano nel video tutte le preparazioni che ho fatto io però premessa per realizzare o per condire meglio dire una pizza napoletana fritta si può utilizzare qualsiasi cosa quindi spazio alla fantasia io andrò a farti vedere gli ingredienti che ho preparato io per la mia farcia che si avvicina molto a quella originale però tu puoi fare quello che vuoi e poi metterci quello che ti parla cosa importante l'impasto della pizza e la cottura quindi queste sono le cose su cui dovrai fare attenzione a e dimenticavo la chiusura della pizza perché questo è anche molto importante per fare in modo che non esca condimento e la pizza si gonfi leggermente ma non troppo perché la pizza napoletana fritta non è proprio gonfissima andremo a fare due versioni della pizza fritta napoletana la prima la pizza fritta classica quindi il cappello di pulcinella che quando vai a morderlo il primo morso mentre cammini per le strade dei quartieri spagnoli margellina via dei tribunali dove ti trovi a napoli è sempre uno spettacolo dopo il primo morso inizia a fumare perché giustamente questa forma caratteristica dà la possibilità al fumo di fuoriuscire in una volta che abbiamo levato il tappo quindi l'inizio c'è la fine del cappello con il primo morso questa qua è la pizza napoletana fritta classica e poi andremo a fare anche una pizza napoletana fritta completamente stesa quindi allargata e questa sarà diciamo la versione 2 della pizza napoletana fritta prima di iniziare ti chiedo una cosa un'ultima cosa che è quella appunto di lasciare un like se ti va se apprezzi il mio lavoro un commento sotto questo video e di iscriverti al canale per aiutarmi nella crescita su youtube questo mi aiuterà moltissimo mi farà molto piacere detto questo fatta questa piccola premessa andiamo al video gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono semplicissimi adesso vediamo anche le dosi 697 grammi di farina 00 418 grammi di acqua fredda da rubinetto poi utilizzeremo 21 grammi di sale e 3,06 grammi di lievito quindi 3 grammi di lievito per impastare utilizzerò una madia ma voi potete utilizzare anche un contenitore oppure impastare sul banco sul piano da lavoro non c'è assolutamente nessun problema è voluto fare in modo classico in modo antico quindi con la madia verso tutta la farina all'interno della madia e vado a costruirmi a realizzare una specie di contenitore per andare poi a inserire l'acqua prima di inserire l'acqua vado a sciogliere il lievito all'interno dell'acqua in modo che la distribuzione dell'acqua e del lievito scusate del lievito soprattutto sia più omogenea una volta fatto ciò inserisco quasi tutta l'acqua all'interno del contenitore che ho creato e vado ad impastare con le mani poi vado ad aggiungere tutta l'altra acqua e quando l'impasto quando l'impasto è ancora bello umido aggiungo il sale in modo che sia più facile sarà più facile scioglierlo continuo impastando fin quando non non creo una massa abbastanza omogenea e vado a coprirla per circa 20 minuti passati questi 20 minuti mi trasferisco sul piano da lavoro e vado a continuare vado a continuare a lavorare la massa dell'impasto che diventerà bella liscia lascio riposare quindi altri 10 15 minuti intanto inizio a prepararmi già il sugo per la farcia quindi per la pizza fritta è un sugo molto semplice utilizzo dei pelati e vado a ridurli con un po di aglio e un po di basilico e sale proprio faccio una salsa bella bella stretta bella ridotta una volta passati i 15 minuti di riposo posso andare a porzionare l'impasto e a creare dei panetti da circa 190 grammi con queste dosi riusciremo a fare circa 6 pizze fritte una volta pesati i panetti vado a creare delle palline quindi le nostre palline di pizza pizza fritta per farlo ci sono diversi metodi possiamo sbatterlo sul banco la pasta cercare di creare una pallina abbastanza rotonda oppure pirlandola comunque i metodi sono tanti la cosa importante è che sotto sia ben chiusa la pallina una volta che l'abbiamo porzionata che l'abbiamo formata gli metto metto tutte e sei le pizze in un contenitore e le lascio crescere per circa otto ore la farcia della mia pizza fritta è composta da guanciale croccante parmigiano del salame della spianata romana tagliata finemente poi a listarelle della mozzella di bufala del fior di latte della ricotta di capra in questo in questo in questo video che ho fatto del basilico fresco e dell'olio di semi di girasole l'olio di semi di girasole mi raccomando deve essere portato a circa 180 185 gradi quindi una volta che tutti gli ingredienti per la farcia e le pizze sono cresciute possiamo passare alla stesura per stendere la pizza fritta vi consiglio di utilizzare pochissima farina quasi niente in modo da non bruciarla durante la frittura vado a stendere il disco di pasta in modo molto grossolano creando una specie di cerchio e poi vado a condirlo quindi con con della ricotta con del guanciale con della mozzarella di bufala o fior di latte con il con il salame e il sugo bello stretto vedete non c'è proprio quasi proprio acqua la cosa importante per la pizza fritta e la chiusura quindi chiudete e sbattete forte con il polso con il pugno sopra la pizza per chiuderla per bene e poi la prendete per le orecchie e la andate ad immergere all'interno del dell'olio per avere una cottura più omogenea vado ad irrorare la pizza con l'olio d'olio bollente in modo che si cuocia sia sopra che sotto una volta che bella dorata la vediamo cioè deve avere un colore dorato quindi bella croccante fuori ma bella morbida dentro possiamo andare a farla scolare quindi a levare il grasso in eccesso sopra della carta assorbente quindi della carta per fritti come sto facendo in questo in questo momento una volta fatto ciò vado a tamponarla leggermente con con dello scottex per levare l'olio in eccesso e vado a tagliarla per vedere quanto è bella all'interno vedete proprio solo a vedere il video mi viene una fame pazzesca perché mi ricordo che quando l'ho mangiata era qualcosa di straordinario però questa qua è una ricetta che è appunto parte della storia di napoli ed è una cosa fuori dal normale poi semplicissima da fare quindi vi raccomando replicate questa ricetta e mandatemi magari le vostre foto commentate sotto il video in modo che ci possa essere uno scambio di opinioni cosa ve ne pare del risultato che ho ottenuto io poi ho fatto un altro tipo di pizza fritta che è quella non chiusa quindi non il cappello di pulcinella ma una pizza fritta completamente rotonda quindi la stendiamo come se fosse una pizza normale senza senza cornicione e poi andiamo così nella sua interezza a immergerla all'interno dell'olio dell'olio bollente fatto questo il procedimento è uguale come per la pizza fritta di prima quindi per la pizza cappello di pulcinella andiamo ad irrorarla con l'olio bollente in modo da avere una cottura abbastanza uniforme questo tipo di pizza fritta è possibile anche girarlo perché è molto più facile da maneggiare da gestire una volta fatto questo anche questa pizza fritta va fatta scolare quindi va fatto perdere il grasso in eccesso dopo averla tamponata leggermente andiamo a farcirla io la farcisco in modo molto semplice con il sugo bello ristretto che ho utilizzato anche prima del parmigiano reggiano o pecorino quello che preferite e delle foglie di basilico questa qua è davvero eccezionale ha un sapore spettacolare sono tutte e due molto valide e che dire vi consiglio di provarle entrambe quando fate la ricetta della pizza fritta quando fate l'impasto e poi di decidere qual è la vostra preferita grazie a tutti